Eccoci, eccoci a Vilnius! Siamo diretti al Broadway, detto anche Broziuvas Dopo un'ottima mangiata al Chilicaimas Che sembra? Stiamo a Calcantara Marcello, tu cosa abbiamo bevuto? Birra, birra e devo fissare Si sente l'audio? Ecco qua, due ragazzi tra i più belli della Campania In particolare l'uomo col vestito e la maglia e la di shirt Giovanni il Bello Vabbè, detto il Bello Facciamo negli strade del deserto Ai vissorati ci hanno fatto la mia antecamica No, stiamo andando al Broadway Però il Broadway... No, è ancora dritto il primo piccoletto sulla destra Vedi? No, perché noi siamo andati qua oggi e siamo tornati indietro Quindi praticamente secondo me è dritto a destra Io dico che è dritto a destra Vediamo chi vince da questa... Ah no, il Municipio sta di là Allora è di là È di là, è di là, di là Anche se non... Anche se non sembra... Anche se non sembra... Perché per adesso è deserto ci sono delle rocce incredibili Ci aggiorniamo dentro al locale per farvi vedere le rocce di pighe del luogo A tra poco Come si... Come si...